velocissima la sto per e sto ritando il video e piccola parentesi stasera c'è restock e no queste cose non saranno nel restock di stasera quindi niente era una piccola parentesi ci vediamo stasera e la ragazzi allora oggi video di un pacco da un fornitore almeno io lo credo lo credo perché mamma mia salvataggio signori che salvataggio perché dicevo l'ho aperto perché in effetti non ero sicura di cosa contenesse ma non è che io adesso ne sia molto più sicura perché io pensavo ci fossero gli anelli ma non credo non lo so è sicuramente di un fornitore però è così piccolino non ho capito bene io adesso scopriamo che cosa c'è perché davvero non ho capito ne sapete quanto mai in pratica se non avessi la memoria di un pesce rosso magari invece ok ho capito ho capito cos'è e sì ci sono anche vari anelli allora intanto vi ho ripreso mamma mia non si vede niente vi ho ripreso jack in ossidiana e anche il baobao ora che ci faccio caso agli occhi un pochino cioè sono a palla anche questi però cioè lui li ha abbastanza cioè mi sembra somigliante però non lo so gli occhi sono un pochino a palla però comunque è molto carino guardate jack quanto è fatto bene tipo sì è come l'altra volta non so come descriverlo ha l'espressione come se avesse un sopracciglio alzato anche se in realtà è un teschio non ho il sopracciglio ma i dettagli e ne avevo comprati anche altri quindi adesso arrivano quindi sì la maggior parte di queste cose in realtà sono anelli alcuni che vi sono piaciuti tantissimo e stanno ritornando altri nuovi e adesso vediamo piano piano cosa c'è ah eccoli qua aiuto cos'è volato gift sì gift questi sembra non lo so raga questo è un piccolo jack in florita questo è un piccolo babò in florita in ossidiana dorata tra l'altro così magari si vede ma questi cioè sembra non lo so guardate che forme strane sono di labrorite anche molto bella però vedete che hanno sembrano cioè sono piatti ma hanno di qua un triangolo non ho ben capito va bene oh sì anelli ragazzi ma perché li impacchettano sempre così male questi ritornano dopo un sacco di tempo sì qua non so se ve li ricordate sono questi con la sunstone guardate che bei riflessi molto carini che sembra tipo dei rametti stupendi oh mio dio sì anche loro ritornano anche questi vi sono piaciuti tantissimo e non posso darvi torto era era cianite sì perché non metti a fuoco metti a fuoco la cianite guardate che bella con questo anello che tipo un ramo grezzo bellissimo bellissimo adoro oh mio dio quante cose stanno ritornando troppo belle oddio sono troppo contenta di averli trovati ancora guardate questo ve lo ricordate uno dei primi così elegante eleganti a gemma che ho avuto bellissimi e qua meglio se lo tengo perché perché lo userò allora qui ci sono altri anelli o dei carvings sono altri anelli vediamo che altri tipo preso perché appunto essendo che arrivano da tipo dall'altra parte del mondo ci mettono un bel po ad arrivare non come una volta è una volta una volta ci voleva molto di più onestamente però comunque vabbè io cioè io in realtà non mi ricordo neanche cosa ho mangiato due giorni fa ma vabbè dettagli dettagli yuhu guardate quanti oddio che bello allora oh mio dio ma quanti ah giusto vabbè raga questi vi fanno sempre impazzire finiscono subito in pochi minuti quindi ne ho comprato una balanga guardate li metto sempre un po alla volta non li metto mai tutti insieme e mi sono incastrati sono loro i vostri amatissimi oh mio dio così ne ho scorta per un po e perché io ho sempre terrore io compro finché ci sono perché poi una volta che un fornitore li esaurisce dopo non tornano più quindi io ne approfitto questi sono nuovi in topazio blu oddio adoro guardate quanto è bello sono sembrano due anelli in realtà è uno solo guardate che meraviglia di questi penso che me ne torrò uno perché è bellissimo così come sta addosso vedete che sembrano due anelli stupendi veramente stupendi sono tutti regolabili ve lo ricordo sempre anche questi sono nuovi ho provato a prenderli secondo me sono molto carini si regolano dal davanti vedete e fanno tipo l'effetto di una farfalla con l'amichista al centro molto carino secondo me e si regolano da davanti così come anche loro quelli con la luna che gli piace tanto e lavorano lì poi questi oh mio dio sì anche questi no vabbè raga sono in granato ma guardateli cioè mi ricorda un qualcosa di sailor moon secondo me non lo so mi fa impazzire guardate che bello di qua ha una fogliolina e un brillantino di qua due brillantini al centro è fatto così bellissimo veramente mi piace tantissimo si sono comprato trovato la roba veramente bella stavolta oh mio dio e mi sa che rimangono solo i carvings quindi sì questo video non mi aspettavo durasse così poco lo ammetto però appunto erano specialmente anelli io ci tenevo a farveli vedere anche se appunto se pubblico questo video il giorno in cui credo che lo pubblicherò quindi se oggi è davvero lunedì 22 il restock è stasera però queste cose ci saranno dal prossimo perché le cose di stasera ormai sono già pronte e definite da tipo una settimana quindi queste saranno nel prossimo e sì quindi vi ricordo che il restock è stasera che bello e niente adesso vi apro ma non avevo preso anche altro no forse no mi confondo un altro baobao tra l'altro questi qua non essendo levigati sono opachi e non lo so al tatto sono così soddisfacenti da toccare non so perché ma sapete che non avevo mai fatto caso che hanno le cuciture di fianco spero che si veda perché dopo un po che sto registrando lo schermo si scurisce molto e non vedo quasi niente mi sembra che si veda però sì con l'ossidiana nera si fa un po fatica capire i dettagli scusate questa cosa è super rilassante ok mi sento meglio e qui quindi dovrebbero esserci sì dovrebbero esserci le teste di jack sembra un'offesa sei proprio una testa di jack va bene basta erica lascia perdere eccole qua bellissime perché c'è tutta sta polverina va bene a parte la polvere è come al solito sembra che non si veda i dettagli eppure giuro che sono fatti molto bene sì ok mi sembra che si veda dai molto belli anche il sorrisino sì sì molto belli allora ragazzi io mi devo dire che mi ricordavo di aver preso un po più cose per il suo controllo ma probabilmente appunto mi ricordo male voglio assolutamente sapere quale tra questi l'anello che vi è piaciuto di più io io li adoro tantissimo non so se mi piace di più quello che mi ricorda sailor moon o quello che non trovo o questo che sembra che siano due anelli davvero non saprei scegliere e niente noi ci vediamo stasera con il restock e presto con il prossimo video ciao 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 ciao